Grazie al PNRR e grazie alla disponibilità del Vescovo e della Curia Vicentina avremo l'opportunità di dare un aiuto, un servizio in più a tutte quelle persone della nostra comunità vicentina che perdono la propria abitazione. Un edificio importante all'interno del nostro centro storico che verrà messo a disposizione della città e di tutto l'ambito territoriale est, quindi 37 comuni per 20 anni. Questo ci consentirà appunto di aprire nuovi servizi, non solo notturni ma anche diurni e con l'obiettivo principale di poter ridare un progetto di autonomia a tutte queste persone e dargli una seconda opportunità.